guarda c'è una statua lassù e Sì, sì. Sì, sì. Sì. Una statua di due serpenti. Ah, una sala da pranzo. Mangiare qui? No, grazie. Ashley. Ok. Non succede niente. Dimmi, ti assegnano spesso missioni come questa? Beh, sì. Ma di solito non ho una compagnia così piacevole. È un complimento? Prendilo come vuoi. Siediti. Siediti. Sì. Sì. Siediti. 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 Siedete Capito 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 Ashley? Si. Siedete. Capito. Ashley. Okay. Siedete. 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 la mia testa aiuto lo sapevo ehi sul balcone che sta succedendo Ashley te ne vieni te ne vieni te ne vieni ti si te ne vieni Grazie a tutti. 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 Questa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. che... Ok? Ci manca... a tutti. Grazie 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 a tutti. Abbiamo solo il meglio del meglio. Ah, è chiusa. C'è un'immagine sulla parete. 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 No, non ci posso credere. Prendi questo. guarda, non si può... sta tranquilla. Sta tranquilla, Ashley. No, non si può. non si può. No, non si può. No, non si può. No. vai al diavolo, stronzo arrugginito. No, non si può. No, non si può. No, non si può. No, non si può. Ehi! Ehi, Ben! Sì! Buonanotte, cavalieri. Con me. Ok. Leon! Leon! Bella presa Sicuro di star bene, ti sei bruciato Grazie dell'aiuto Sei stata brava Ashley Ok Non si muoveranno, vero? Non si muoveranno, vero? Leon, le scale! Stai indietro Muerte Corri Vai Il Non scappo. Aspetta, Miriam. Grazie.